non lo fa ma vabbè non puoi andare a capo non puoi andare a capo tutto a c***o il primo tempo tu è c***o tu stai fa' un'altra cosa vieni a questa l'accelo che che è che sto a provare? Sì, è bella. Vediamo un attimo la registrazione, un secondo. Il caffè che vi facciamo. Sì, sì. Sì, è bella.